Amici ben ritrovati, come è stato? Un saluto a tutti, iscrivetevi qui, mi raccomando, numerosi, qualsiasi squadra a voi ti fiate, lasciate un bel like, commentate, bomba dalla Gazzetta Oggi che trova conferma nel corso della giornata perché Rafa Leao sembra intenzionato ad accettare la proposta del Milan, sembra davvero molto vicino ad accettare la proposta del Milan, chiedo scusa, se sarà sarà gennaio, i primi giorni quando si incontreranno Maldini Massaro e Ted Di Vula che è il suo rappresentante, Milan che è arrivato a 6 milioni e mezzo, lui ne vuole 7, c'è però un bonus alla firma che deve essere riconosciuto come aiuto per quella famosa multa di risarcimento che lui deve allo Sporting, che io sapevo di essere 16 milioni e mezzo, ci sono però versioni contrastanti, dall'entourage bocche cucite, si cerca di sviare sul tema, dal Milan ci dicono noi non riguarda e quindi si fa un po' fatica a capire quale sia la cifra. In ogni caso la notizia è che mai come in questo momento e soprattutto nei prossimi giorni Milan e Leao sono stati così vicini a prolungare il loro matrimonio con un rinnovo di contratto che renderebbe Leao il giocatore più pagato al Milan e permetterebbe al Milan di stare tranquillo da un punto di vista sportivo e anche economico finanziario per scongiurare il rischio che il giocatore vada via a zero. Milan che vuole tenere Leao, vuole rinnovare Leao per tenerlo, non per cederlo meglio la prossima estate, anche se il mercato ovviamente è un continuo di venire, però mi sembra che questa sia una buona notizia per i tifosi del Milan, ovviamente aspettiamo la spunta verde, però insomma tutti le indicazioni, gli indicatori, gli spifferi, i rumor, le sensazioni portano a rinnovata fiducia sul rinnovo che sarebbe complicato e proprio per questo capolavoro qualora riuscisse Amaldini e Massara. Commentate qui sotto numerosi, iscrivetevi qui, lasciate un bel like, ci vediamo presto per altri video flash qui sul nostro canale. Un abbraccio a tutti, ciao, buona serata, iscrivetevi, mi raccomando.